Io sto per i cavoli miei perché ho una famiglia, lavoro, che cosa faccio? Non mi dica attore perché non è che è proprio Al Pacino, lei ha fatto una compazza quando aveva 11 anni, poi a Suburra, ma in mezzo che ha fatto? Quale Suburra ho fatto? Io ho fatto un film americano, un film in Francia, ma lei che fa? Solo qua viene? No, sono giornalista. Che cosa fa lei come giornalista? Ma che domanda è? Io le ho chiesto, lei vive. Che cosa fa? Anche lei vive in una casa importante. Ma se non ci sono i Casamonica mi dici come fa a lavorare. Anche lei, se non ci sono i Casamonica, non ci sono i Casamonica.